Il caos cartello è scoppiato nell'ultima settimana e denunciato dal centrodestra provoca il terremoto in giunta. Il comune prova a correre ripari chiedendo alla Step di sospendere alcuni avvisi di accertamento ma dall'opposizione chiedono le dimissioni anche del sindaco. Oggi al Qualte prima conferenza regionale delle aree protette. C'erano i presidenti e i direttori di parco e di aree marine dell'isola. Abbiamo intervistato l'assessore all'ambiente Donatello Spano. Nella pagina sportiva parleremo dei risultati del weekend. Amatori rugby KO in casa per il calcio. Bene in Treseliges perde ancora l'Audax. Fine settimana positivo per Mercede e Coral. Buon inizio di settimana a tutti voi. Bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Parlando di quello che abbiamo definito terremoto in giunta perché nel pomeriggio di venerdì l'assessore alle finanze Gavino Tanchis ha rassegnato le proprie dimissioni. Tutto è legato a quelle che sono state definite cartelle pazze. Parlare di fulmine a Celsereno probabilmente non è corretto perché che ci fosse l'attenzione all'interno della giunta era cosa risaputa soprattutto negli ambienti della maggioranza. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato l'ennesimo duro confronto tra il sindaco e l'assessore al bilancio alle finanze Tanchis. Il tutto dopo la presa di posizione di alcuni consiglieri di centrosinistra come Sartore che aveva chiesto l'immediato annullamento in autotutela di tutti gli atti già emessi ed eventualmente la risoluzione del contratto per giusta causa con la Step ma soprattutto del sindaco che in un post su Facebook poche ore prima delle dimissioni di Tanchis aveva attuonato non posso tollerare errori per questo chiesto alla struttura comunale, al dirigente competente, all'ufficio tributi una verifica attenta di quanto si sta facendo la sospensione o l'annullamento degli avvisi dove non vi sia la certezza dell'equità e della legittimità di quanto richiesto i contribuenti. Quindi nel pomeriggio di venerdì la nota da portaterra l'amministrazione era visata alla necessità di procedere a verificare attentamente le posizioni dei singoli ha prudenzialmente ritenuto di invitare il concessionario affinché proceda ad annullare in autotutela gli atti relativi a periodi di imposta non a rischio di decadenza ovvero gli avvisi di accertamento gemessi e notificati per le annualità 2014 e successive annullamento che verrà notificato a breve a ciascun contribuente, avevano fatto sapere sempre dal Comune per quanto riguarda invece l'avviso TARES relativo al 2013 poiché la sua sospensione non interromperebbe la decorrenza dei termini per eventuali ricorsi 60 giorni si procederà all'accertamento con adesione. Questo dopo un incontro con le associazioni turistiche, artigianali e dopo che dall'analisi degli atti notificati in totale un numero inferiore ai 400 sono merse delle criticità riconducibili al mancato aggiornamento delle banche dati nel tempo che rendono complesso determinare con precisione la base imponibile e pertanto difficile accertare le superfici da soggettare a tassazione. Per i cittadini che hanno invece ricevuto avvisi di accertamento IMU relativi a presunte aree fabbricabili anche se ubicati in agro, in aree industriali o servizi già nei prossimi giorni gli avvisi saranno oggetto di rivalutazione conseguente immediata retifica da parte degli uffici. Questa la parte per così dire tecnica sta di fatto che il caos cartelle esploso in queste settimane dopo le segnalazioni di diversi cittadini, imprenditori e la dura presa di posizione degli esponenti di centrodestra ha fatto saltare clamorosamente l'ottavo assessore della Giunta Bruno. Anche stavolta motivazioni politiche che il segretario cittadino del Partito dei Sardi spiegherà domani mattina nel corso di una conferenza stampa. E come detto caos cartelle esploso soprattutto dopo le denunce e le polemiche sollevate dal centrodestra in modo particolare da Forza Italia e dalla Lega con Michele Paes che ora intervengono chiedendo le dimissioni del sindaco e dell'intera Giunta al pari di altri esponenti di opposizione come Maria Grazia Salari, Semiliano Piras e Monica Apulina. Dimissioni necessarie ma assolutamente non sufficienti. Lo sostengono il gruppo consigliare, il direttivo di Forza Italia secondo il quale Tankis è sì il principale responsabile dello scellerato depotenziamento della SEC al vantaggio della STEP, la società di sorso mandataria da pochi mesi dell'accertamento e riscossione di nostri tributi locali, ma non il solo. Al suo fianco vi furono il sindaco Bruno, la Giunta e quella risicata in consapevole maggioranza che li sostiene o li sosteneva. Così come allora, scrivono i forzisti, ci aspettiamo che anche in questa occasione si trovino fianco a fianco a presentare alla città scuse e dimissioni. Tanti, troppi settori cittadini stanno soffrendo oggi le sorti derivanti dalle scelte e dalle non scelte di questa amministrazione e in tanti, troppi casi, la misura è giunta oramai al colmo dalle improvvi da gestione del centro residenziale per anziani alla pianificazione dell'agro, dalla nefasta azione svolta sul nostro litorale allo scandalo delle cartelle pazze solo per citarne alcune, non vi ambito nel quale Bruno e Sodali non abbiano esteso gli effetti della propria inabilità politica. Privatizzazione della gestione di tributi che era stata criticata a gente in pino sospetti dal consigliere comunale della Lega, Michele Paese che sul tema propone un referendum in questo modo gli algeresi potranno esprimere la propria preferenza è giusto che scelgano i cittadini, dice la questione non risparmia neanche i banchi della Giunta dove ha lasciato il suo incarico anche l'assessore alle finanze Tankis sono maturi i tempi durante i quali anche il sindaco Mario Bruno dovrebbe fare un passo indietro chiedo le sue dimissioni immediate, scrive Paese prima che questa amministrazione continui a produrre danni a discapito di tutta la comunità algerese analoga richiesta arriva da Maria Grazia Salaris e di Miliano Piras che chiedono inoltre la convocazione urgente della commissione di controllo e garanzia per verificare eventuali irregolarità nelle migliaia di atti di riscossione inviati dalla Step in questi giorni alla vigilia di Natale i nostri concittadini stanno subendo l'ennesima vessazione messa in atto dal sindaco Bruno che per i due esponenti di centrodestra farebbe bene a seguire l'esempio del suo ex fedele e finalmente liberare la città da questo disastro amministrativo un disastro apocalittico invece per un altro esponente di centrodestra Monica Polina nove gli assessori che hanno abbandonato la deriva dalla Lampis passando per Gianni Cherchi e i cinque dell'Udc con Cacciotto che invece aveva lasciato per l'ingresso in consiglio regionale senza parlare del fuggi-fuggi dei dirigenti e ora la cronaca lasciamo la politica nel corso di un pattugliamento in mare le prime luci dell'alba della giornata di venerdì scorso la sezione navale delle fiamme gialle di Alghero ha bloccato un'azione di bracconaggio di ricci di mare i finanziari hanno notato la presenza di due subacquei intenti a pescare nella baia di Portoconte che alla vista dell'unità navale si sono dati precipitosamente alla fuga raggiungendo la spiaggia limitrofa dalla quale hanno fatto poi perdere le loro tracce la fascia marina in cui i bracconieri stavano portando a termine la battuta di pesca di Frodo ricade all'interno dell'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana zona come è noto permanentemente soggetta a stringenti vincoli il prezioso carico costituito da due grandi contenitori al cui interno sono stati rinvenuti oltre mille esemplari è stato subito recuperato dai militari che con immediatezza l'hanno rigettato in mare in quanto risultato biologicamente vivo l'operazione in questione si inquadra nell'ambito delle molteplici attività che le fieme gialle del comparto aeronavale e isolano svolgono a contrasto del fenomeno connesso alla pesca e commercializzazione illegale delle specie ittiche che con il periodo natalizio ormai le porte verrà ulteriormente incrementata al fine di tutelare i consumatori e gli onesti operatori del settore ci fermiamo adesso per una prima pausa abbiamo parlato nei giorni scorsi della cessione da parte della regione al comune di alcuni immobili dell'agro presso però il comune potrebbe farsi carico anche di tutto il sistema viario dell'area della bonifica strade che secondo quanto scritto nella delibera che approderà in consiglio saranno poi assimilabili a strade vicinali o consortili un'eventualità criticata dai consiglieri comunali Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris e dall'ex sindaco Stefano Lubrano quest'ultimo ai nostri microfoni ha spiegato perché serverato del consiglio comunale però presto la rete viaria delle borgate possiamo dire così passerà in mano al comune lei assieme alla consigliera comunale Salaris se il consigliere comunale Emiliano Piras aveva sollevato dubbi perché? Beh si tratta di una rete viaria mastodontica sono circa 200 km di strade interpoderali che l'amministrazione comunale rileverà dalla regione Sardegna è tutto legittimo il problema è che appunto queste strade hanno necessità di importanti interventi di manutenzione straordinaria di interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale naturalmente sono costi importanti sappiamo appunto che il consigliere regionale Remondo Cacciotto ha fatto una richiesta di finanziamento che sicuramente sarà comunque una quota parte minima e non serviranno ai soldi che verranno riportati ad Alghero a completare l'intervento leggiamo nella proposta di delibera del consiglio comunale che si deciderà per un'eventuale scelta per indicare quelle strade come strade eventualmente consortili questo significa che se si realizzano strade consortili il 50% del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ricarderà sulle tasche di quei cittadini che hanno la casa a prescindere che sia di residenza o meno lungo quelle strade quindi riteniamo che quando si fanno le cose ripeto in questo caso legittime si dà la comunicazione ampia perfetta e si faccia capire ai cittadini che andranno ad essere gravati di ulteriori costi mentre l'amministrazione comunale fa andare le fanfare dicendo che è un grande successo noi riteniamo che invece così come è impostata oggi questa cosa sarà foriera di ulteriori e gravi costi per i cittadini dell'agro un evento regionale che punta a valorizzare il sistema delle aree protette della Sardegna e mettere sul tavolo le nuove idee di sviluppo futuro partendo dai risultati raggiunti l'obiettivo della prima conferenza regionale delle aree protette è andata in scena quest'oggi nella sala conferenze del Qualte presenti tutti i presidenti direttori di parco e di aree marine protette dell'isola oltre a rappresentanti del mondo delle imprese e della ricerca dopo i saluti delle autorità locali i saluti in particolare del sindaco Mario Bruno ma anche del presidente del parco del parco di Portoconte Gavino Scala e del presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau diverse le tavole rotonde moderate dai giornalisti Donatella Bianchi e Marco Gisotti il quale ha fatto anche il punto con l'assessora regionale all'ambiente Donatella Spano sulle azioni portate avanti dalla regione per la conservazione degli ambienti naturali e la loro valorizzazione attraverso le aree protette la giornata realizzata verso i parchi e le aree marine in stretta collaborazione con tutte le aree protette operative nell'isola ma sentiamo proprio le parole dell'assessora Spano Oggi inizia la prima conferenza regionale sulle aree protette della Sardegna abbiamo organizzato per la prima volta questo evento mettendo insieme tutti i vertici delle aree protette parchi nazionali, parchi regionali aree marine protette che sono sempre di livello nazionale e abbiamo però chiamato anche gli operatori coloro che dal punto di vista imprenditoriale lavorano all'interno delle aree abbiamo quindi cercato di coniugare quello che è la maggiore criticità nella gestione delle aree protette la tutela e la valorizzazione e anche la capacità di lavoro di creare nuove imprenditorie, nuovi lavori credo che con questo evento stiamo creando veramente un momento storico in cui tutte le forze lavorano insieme per un unico obiettivo che è quello di trovare l'equilibrio appunto tra tutela e valorizzazione ed è in questo senso che questo pomeriggio tutti siamo chiamati a firmare un documento importante che è quello che sancisce l'istituzione della rete regionale delle aree protette e quindi appuntamento a questo pomeriggio con appunto la conclusione dei lavori intanto entrano in vivo i festeggiamenti per il Natale algerese anche del programma di eventi di meschio mes come la tradizione nel giorno dell'Immacolata alle 18 in piazza Portaterra c'è stata l'accensione dell'albero di Natale con la qua e delle luminarie per le vie del centro storico luce di coralli il nome dell'allestimento urbano di quest'anno realizzato dall'artista algerese Tonino Serra con la collaborazione degli studenti del liceo artistico Costantino di Alghero l'albero di Natale è stato realizzato con rami di quercia trattati e colorati di rosso che richiamano il corallo simbolo della città di Alghero le lanterne del centro storico sono state impreziosite dall'aggiunta di rametti di plastica stampati in 3D che richiamano anche in questo caso il corallo rosso e danno un effetto più luminoso dopo l'accensione dell'albero di Natale il consueto concerto della banda musicale da Lerci che da piazza Portaterra ha attraversato le principali vie del centro storico insieme alla zona del porto sono state teatro di diverse manifestazioni come la festa del cioccolato fra tanti appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie anche quest'anno è stato allestito il villaggio di Natale nella torre di Sulis mentre il largo San Francesco è presente Eco Carosello la giustrina ecologica per bambini che rimarrà sino all'epifania fine settimana dedicato anche all'enogastronomia street food con le vie del V seguito dal concerto del vincitore di Italia's Got Talent 2016 Moses inaugurato anche a Natale Ingiostra con la Materland che quest'anno si arricchita della pista di pattinaggio su ghiaccio ci fermiamo per un'altra piccola pausa tra poco ultima parte come sempre lunedì dedicata allo sport una sconfitta che non ci voleva contro il fanalino di coda Cavalieri Union Rugby Prato Sesto stiamo parlando di rugby nell'anticipo dell'immacolata Maria Pia Alghero è stata battuta dai Toscani appunto del Prato per 7 a 10 un solo punto guadagnato dagli algheresi che si portano a 18 restano terzi ma vengono allontanarsi la Capitolina ora a più 9 è stata una gara difficile per l'Alguero che ha affrontato una formazione i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto che ha giocato mettendo in campo una delle sue caratteristiche principali la fisicità il punteggio molto basso dell'anticipo della sesta giornata del girone 3 del campionato di Serie A è la prova di come si è lottato e soprattutto in avanti Pesapane e compagni non hanno avuto mai vita facile tutt'altro la cronaca a livello di punteggio e marcature ha offerto davvero poco il primo tempo è finito 0 a 0 con a tabellino solo un cartellino giallo al Pratese Puglia nella ripresa il punteggio si è sbloccato al quinto minuto sono stati gli ospiti a trovare la via della meta con Ruotolo ancora Puglia trasforma per i primi sette punti della gara l'amatori ha cercato una reazione e al 14esimo è stato il tongano one and one a riuscire a bucare la difesa avversaria e piazzare la palla in meta Micheli trasforma sul pari si continua a lottare nonostante l'inferiorità perché i padroni di casa nel frattempo sono rimasti in 14 per l'espulsione di Totoccellia già destinatario di un giallo ma è stato un piazzato degli ospiti al 37esimo firmato ancora da Puglia a chiudere i giochi la gara è terminata 7 a 10 per gli ospiti che si sono portati via 4 punti mentre l'Alghero ne ha guadagnato solo uno la classifica comunque non è cambiata la capolista capitolina vittoriosa sulla seconda Pesaro è salita a 27 punti ha allungato le distanze l'Alghero resta comunque terza a meno uno proprio dal Pesaro e a meno nove lunghezze dalla vetta dal rugby al calcio ieri si è giocata la decima giornata nel girone di seconda categoria con l'Audax che ha perso nettamente 3 a 0 Nulvi sul campo del Monte Alma squadra di Gepo Serra che dopo il K.O. di ieri scivola a meno 14 dalla testa della classifica occupata dall'ottava Trezelliges che invece sale ancora staccando di tre punti proprio l'Audax grazie al successo Casalingo contro il Mores 3 a 0 per i ragazzi di Bardini gol di Carboni nel primo tempo e di Canessa e Keita nella ripresa resta la mano in bocca per la partita persa a tavolino con il Monte Alma perché con quei tre punti in più il Trezelliges ora sarebbe a quota 20 a una sola lunghezza di ritardo dal secondo posto in terza categoria ieri ragionata di Coppa con il 1945 Alguero che ha perso 4 a 2 sul campo del Mara mentre in prima categoria girone D è rimasto tutto invariato con l'Olmedo sempre a meno 2 dal primo posto la squadra allenata da Fabio Parra ha fatto 0 a 0 in casa contro il Tempio ma anche le tre formazioni in testa alla classifica hanno pareggiato un cenno anche ai risultati di calcio a 5 nel girone B di C2 in testa c'è sempre l'Audax che ha vinto l'ottava partita stagionale 5 a 4 in casa contro l'Epi Fitness di Porto Torres successo anche per la Futsal Alguero 6 a 2 a Olbia contro il Porto Rotondo sul calcio a 5 torneremo comunque più ampiamente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale spazio anche al basket in C femminile altra vittoria per la Mercedes Alguero che resta così in scia nella Virtus Cagliari nella prima di ritorno le ragazze guidate da Manuela Monticelli hanno avuto la meglio per 60 a 52 sul campo del basket su plano vittoria altrettanto importante per la Coral in questo caso nel campionato di serie di maschile 80 a 70 a Sassari contro la Dinamo 2000 che vale il secondo posto in classifica match condotto dall'inizio alla fine con ampi margini di punteggio tra i due contendenti ottima prova di tutta la squadra dai giovani ai senior unica nota stonata all'infortunio inizio gara del capitano Emiliano Salvatore da segnalare i 22 punti di Ponziani in doppia cifra anche Serra e Bonalume e chiudiamo con i motori primo Formula Challenge Riviera del Corallo nel segno di Fabian Gioia e della sua Radical Pro Sport è stata gara vera con spettacolo emozioni continue con i boli di rombanti che hanno profuso spettacolo aggetto continuo nelle sfide del minicircuito di Piazzale della Pace la manifestazione di automobilismo sportivo andata in scena ad Alghero organizzata dal team Alghero Corse con il sostegno e il patrocino di Comune Regione Sardegna Fondazione Alghero Provincia di Sassari AC Sassari AC Sport AC Global e il Comitato Provinciale Sassari del Coni finita con una terza straordinaria manche corsa all'imbrunire dell'algherese Fabian Gioi pilota che alla fine si è imposto con grande merito nel combattuto e spettacolare primo Formula Challenge Riviera del Corallo andando a scrivere il suo nome nell'albodoro di questa manifestazione Gioi ha avuto la meglio sul combattivo Veloce Sassarese Enea Carta all'esordio in questa disciplina e alla guida della Formula Gloria e sull'altro favorito della vigilia Luca Tiloca sempre su Formula Gloria numeroso pubblico di appassionati per tutta la giornata con grande interesse ha seguito la gara e le appassionanti sfide fra i circa 70 piloti chiamati a darsi battaglia sul circuito cittadino di 650 metri con le macchine che correvano a 2 a 2 in contemporaneo in una specie di prova a inseguimento tirando le somme di questo primo Formula Challenge Riviera del Corallo tutti i presenti dei piloti al pubblico hanno dimostrato di apprezzare tanto la formula quanto lo spettacolo fornito dalla gara la propria gara diretta magistralmente da Mauro Guazzi filata liscia nella categoria ADB ha visto imporsi Matteo Priola davanti a Marco Cadau e Giovanni Frontetto e i motori chiudono l'edizione odierna del nostro telegiornale noi ci vediamo domani grazie per essere stati con noi e arrivederci